Siamo con Valentino Amore, allenatore della Folgore Castellemondo, al termine di questo spareggio per la finale playoff del Girone F, è andata male la Folgore Castellemondo, possiamo dire che la squadra è uscita a testa altissima da questa sfida a coronamento di una grande stagione. Sì, abbiamo fatto una grande partita, siamo arrivati a questa finale, ci credevamo, dispiaggi perdere, però alla fine nel calcio gli episodi pagano, abbiamo commesso due errori, abbiamo preso due gole, abbiamo avuto occasione di poter recuperare la partita, sull'1-1 ci credevo perché stavamo giocando bene, abbiamo preso un po' il sopravvento e alla fine il secondo gol ci ha tagliato un po' le gambe, comunque i ragazzi hanno lottato fino al 120, devo dirgli solo grazie, non solo per oggi ma per tutto l'anno, per come si sono impegnati e siamo arrivati tutti insieme qui a giocarcela, dispiace. Sicuramente per la Folgore Castellemondo tante note positive, soprattutto guardando al futuro i tanti giovani di eccellente qualità che avete messo in mostra in questa stagione. Sì, la società punta molto sui ragazzi, ce ne abbiamo molti, cioè i giocatori sono quasi tutti di Castellemondo e tutti i ragazzi cresciuti prevalentemente nel settore giovanile, ci puntiamo sia per questo anno e per il futuro e spero che continui così, infatti devo ringraziare anche la società che è anche un giusto premio per loro perché sotto si sta lavorando bene e si portano più ragazzi possibili in prima squadra. L'obiettivo è quello di valorizzarli e di cercare di far bene in futuro. Giulio Gagliardi, allenatore del Camerino, naturalmente soddisfattissimo come tutti i suoi ragazzi per questo importante successo che proietta il Camerino allo spareggio contro la Pintoretta come si giocherà alla promozione in prima categoria. Tornando alla partita che abbiamo visto poco fa, secondo te Giulio cosa è riuscito il Camerino a mettere in campo per riuscire a vincere questa partita di più di un avversario tostissimo come dicevamo anche sabato scorso? L'anima, noi abbiamo messo l'anima, ci siamo difesi insieme, uniti, sicuramente non siamo stati belli perché un'ora in merito va al Castellemondo che ha cercato di fare la partita. Noi i primi 20 minuti li abbiamo controllati, li abbiamo girati, li abbiamo colpiti e dopo abbiamo cambiato un po' la situazione, ci siamo messi a due punti, li abbiamo colpiti, ci siamo ridifesi, hanno risegnato meritatamente e noi meritatamente con massima umiltà abbiamo risegnato. Questo è il calcio, loro dovevano fare la partita perché dovevano cercare di vincere, noi sapevamo le nostre armi che in contropiede sono omicidiali e le abbiamo sfruttate. Diciamo che sotto un punto di vista d'attico non è stata una partita che è bella perché il significato era molto molto importante perché vincere questa partita ti garantisce quanto meno eventuali ripescaggi, essere in posizioni molto alte. Dunque noi sapevamo l'importanza della partita, abbiamo sfruttato le nostre qualità. Ripeto, onore e merito a Castellemondo, una gran signora squadra, ha giocato a pallone, cercava di giocare e ci ha messo in difficoltà. Proiettandoci un attimo alla prossima partita, importantissimo ovviamente, inutile dirlo contro la pinturetta, cambierà qualcosa nell'approccio al match da parte vostra in settimana o qualcosa di particolare se conoscete l'avversario? Sono andati a vederla per me prima di tutto, poi lo sapremo, però per quanto è possibile. Sono partite particolari che tanti ragazzi per quanta esperienza ce l'hanno comunque la sentono. Dunque noi andremo a fare la partita in modo differente naturalmente, perché qui comunque il pareggio ci portava ai 120 minuti. Lì diciamo non c'è nessuno niente da perdere, andiamo a giocarci alla viso aperta, viso aperto dunque vedremo quello che succede, il campo dirà chi sta più in condizioni e chi è più bravo. Chiudo con una battuta, avete già pensato un regalino per Di Modica? Di Modica è come Remici, ma come tutta la squadra, perché Di Modica è il finalizzatore, per queste categorie è un lusso, perché ha una forza fisica stradipante, dunque quando lui sta in condizioni è difficile per gli avversari. Ha fatto il suo lavoro.